Temptation Island, non si arrestano i rumor sui protagonisti dell'ultima edizione e in questi giorni i più chiacchierati sono Lino, Alessia e la single Maika. Ricordiamo che la coppia di napoletani è uscita separata dal villaggio. Lei non ha voluto saperne del compagno e lui ha deciso di frequentare la tentatrice conosciuta al villaggio in Sardegna dopo l'esperienza nel programma di Filippo Bisciglia. Ed è stato a quel punto che è iniziato il chiacchiericcio. Lino e Maika si sono mostrati sin da subito in grande sintonia, poi se le sono dette di ogni attraverso i social e così ha fatto Alessia, che non ha risparmiato frecciate all'ex e alla nuova coppia. Lino dal canto suo ha accusato la sua ex fidanzata di essere falsa e di avergli mancato di rispetto nei quattro anni di relazione. Alessia ha invece rispedito al mittente le stesse accuse e ribadito di non essere mai stata serena durante la loro storia. Sempre riepilogando, Maika e Lino avrebbero avuto un momento di crisi e anche qui non hanno lesinato attacchi social reciprochi. Ma arriviamo all'ultimo colpo di scena. I fan più attenti hanno osservato con attenzione le ultime storie Instagram di Lino e Alessia, così come quelle di Jenny. Osservando nel dettaglio pare che tutti si trovassero nello stesso posto. Quindi la domanda lecita da farsi è, dopo la lite e la rottura si sono rivisti anche se non si trovavano da soli? A quanto pare sembrerebbe proprio di sì. Si sono rivisti in un locale di Catania e tanti hanno segnalato quella che certamente potrebbe essere anche una coincidenza sui social. È stato davvero un incontro fortuito o tra Lino e Alessia potrebbe esserci una svolta dopo l'addio a Temptation Island? Il pubblico a questo punto vuole sapere.